Namaskar Conosci questo saluto? È il gesto più diffuso in Nepal. Si usa per dare il benvenuto a qualcuno o per lasciarlo andare via. Questi bambini ti stanno salutando da quelle che fino a pochi mesi fa erano le loro scuole. A molti di loro il terremoto ha portato via tutto, anche i genitori, senza neanche il tempo di un ultimo Namaskar. Ora hanno bisogno di te. Dona oggi stesso. Ogni piccolo aiuto è il benvenuto. Unisciti ad Asia in un gesto che farà scuola. Grazie a tutti.